E bentornati e benvenuti qua ragazzi nel mio canale youtube come sempre prima di iniziare il gameplay ti ricordo che in descrizione se vuoi puoi acquistare questo ma non solo tanti altri giochi scontati in descrizione ti ricordo anche i miei canali social e quant'altro quant'altro Allora ragazzi voi vi starete chiedendo perché ho messo questa fabbrica dell'olio ebbene si ragazzi l'ho messa in live su twitch perché comunque questa mappa è un po' complicata per mettere giù le robe e onde evitare di fare danni ho deciso di mettere questa fabbrica Quindi in teoria io l'ho già attivata come potete vedere qua distribuzione che è olio di colza in distribuzione immagazzinamento perché queste ovviamente sono spente e abbiamo 20.000 litri di colza e non solo nel silos ne abbiamo credo altre tanti che adesso andiamo a vedere ogni tanto qui scatta farming non so perché Boh non so ogni giorno qui esce un aggiornamento non se ne capisce più una mazza però non ne mordiamo il tutto Allora oggi stavo pensando di mettere una fabbrica cioè una fabbrica una serra e in più comprare le pecore Quindi iniziamo subito a mettere le serre quindi costruzioni, produzioni, serre Metterei ragazzi quelle che ci chiede direttamente la mappa Queste qua Queste qua mod perché comunque sono piccolette non disturbano tantissimo Anche se volevo tipo metterci queste però queste sono un po' complicate Che quasi quasi metterei anche queste a dirvi la verità Non lo so sono un po' indeciso ragazzi è che queste costano veramente tantissimo A parte questa che è l'unica che costa poco Però a sto punto metterei questa da 10.000 euro Perché 10.000 euro? Perché poi dobbiamo comprarci anche il discorso pecore Quindi ragazzi io la metterei proprio qui dove c'è questo spiazzettino Forse un po' troppo magari la mettiamo un po' distantino tipo qui Ok vediamo se me la fa mettere tipo così Vediamo dove è il trigger, dove è il trigger? Eccolo qua Non faccio danni, aria vietata Dove, perché aria vietata? Eccola qua, adesso qua me la fa mettere Perfetto, ok mettiamola qui Ok così meno non disturba tantissimo E anche gli operai, cioè anch'io posso tranquillamente lavorarci Anche se è un po' scomodo devo dire perché il trigger è andato sotto mappa Quindi la rivendo un attimino Produzione SR Quella da 10.000 però mod Eccola qua Ok, il trigger va sotto mappa però adesso non più Eccolo lì Perfetto, almeno l'ho sistemato il tutto Quindi ovviamente andiamo a decorarla Ok, ho decorato giusto un pellettino Adesso ovviamente facciamo la spianatura qui perché mi sembra un po' troppo alta qui Perché è un po' scomoda se no poi Ok, magari un po' più basso Ce l'ho qui, eccolo qui, è un po' più basso Così almeno abbiamo più la libertà di entrare e uscire Eccolo qua, vediamo se riusciamo a spianare un altro po' Ok ragazzi, più o meno ho finito di spianare Poi se c'è da modificare qualcosa sicuramente farò off camera Allora io ci metto una luce perché sta mappa è un po' buietta Quindi ci mettiamo una luce qui sopra E anche una luce qua Poi toglierò questi alberi Comunque li toglierò Quindi eccola qua Poi adesso andiamo subito a comprarci delle mucche Cioè, delle pecore Perché comunque ho bisogno di fare questo Poi vi faccio vedere cosa ho fatto in live su Twitch Vi ricordo che anche là faccio le live Quindi ci vediamo non appena siamo su dalle pecore Ed eccoci qua dalle pecore ragazzi Ho messo anche un capanno qui Forse un po' scomodo Però l'ho messo per comodità Perché almeno non faccio avanti e indietro Quindi questo trattore lo lascio sempre qua Per fare piccoli spostamenti e così via Allora, ci compriamo le pecore Così ci aiutano anche a fare tutto Direi che ci compriamo 5 Facciamo 5, 5, 5 10, 10, 10 Cosa dite ragazzi? Ma sì dai Facciamo così Ah, comunque non ho messo la webcam Perché da me C'è brutto tempo Poi mi sono svegliato da poco Insomma Non ho messo la web per quella Perché come sapete Sto per registrare questo video Perché comunque da me Purtroppo il nord è stato colpito da brutto tempo Quindi Mi sto portando un po' avanti con YouTube Insomma Tutte cose Ok Quindi compriamo Compriamo anche questo Ok Un'altra Un'altra Pecorazza Eccola qua Compro direi Basta così Perfetto Ecco le qua Le nostre pecorazze Ecco qua Adesso ovviamente Le pecore vogliono Cosa vogliono Che non mi ricordo più Allora Vogliono Lana Erba Erba Solo erba Quindi mi comprerei Ragazzi Anche un camioncino Perché è comodo Un camioncino Quindi camion 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 Mi prenderei questo qua Ragazzi Ma Questo qua da 61.000 Va più che bene Ma si dai Ce lo compriamo Allora Capacità Al massimo Ok Compra Sì 62.000 Dove me l'ha messo Bella domanda Bella domanda Bella domanda Dove me l'ha messo Ah eccolo là Eccolo qua Perfetto Con l'animazione Che si apre Si chiude così Perfetto Quella di Peppe Purtroppo mi microscatta Non so perché Ma dopo Gli aggiornamenti Devo dire che Un po' di problemi Ce li ha subito Dopo un po' si sistema Ma Vabbè Dettagli Allora Intanto mi aggancio Qui con Un attimo Solo che mi aggancio Poi basta Acquisti per ora Poi più avanti Comprerò anche Un altro acquisto Ma per ora Non compro più niente Perché siamo messi male Con i soldi Abbiamo 40.168 euro Quindi direi Basta così Quindi facciamo Il pieno Pieno di erba Che in teoria Ne dovrei avere Dove sta Dove sta Totale razione mista Erba Eccola qui Perfetto Facciamo il pieno E ci vediamo Non appena Sono su dalle pecore Ok ragazzi Siamo quasi qua Dalle pecore Non manca molto Scusate la voce Ma Sto approfittando Anche per Mangiare una caramellina La Latta Hashtag Caramellata Allora Andiamo su Qui dalle pecore Caramellata Che si entra Di così Qua devo sistemare Comunque Questo garage Qui Perché non mi piace Moltissimo Come l'ho messo Però Vabbè insomma Dai vediamo Se dove lo vuole Se lo vuole qua Direttamente Sì Perfetto Dai Pensavo che lo voleva Proprio dentro 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 Vabbè Meglio così Allora Intanto che scarichiamo Qui con il nostro Bellissimo Fiat di Peppe Che salutiamo E' quello lì Che si fa il pieno Mi sa che Un carico Non basta Ma però Ne facciamo un altro Ma però Non si No Non si dice Però Ma però Sì dai Penso di sì Nel dubbio Cipolla Buona Allora Quindi Recappo Oggi brevemente Il video Che vi ricordo Che ho comprato Le pecore Come su giù Una serra E Ho comprato Questo Fiat Quindi oggi Di soldi Ne abbiamo Spesi parecchi Però volevo fare Anche qualcosa Di diverso Compresa La fabbrica Dell'olio Ma tanto Poi Dalle pecore E dall'olio Sicuramente Ce ne ripaghiamo Quindi adesso Vado per questa strada Che mi sono costruito In live Su Twitch Ovviamente Adesso andiamo Giù sotto Prendere l'altro Restante Dell'olio Sì dell'erba Attorno a questo olio Vabbè Quindi adesso Andiamo qui Poi successivamente Ci occuperemo Della fabbrica Dell'olio Magari Manderò In live Su Twitch Avanti il tempo Così Per non farvi vedere Sempre le solite robe Insomma Poi ce ne occuperemo Quando che direttamente La roba è piena Insomma Così vi faccio vedere La vendita E quant'altro Cosa sto dicendo oggi Non lo so Ok direi che basta L'erba Adesso vi faccio vedere Che comunque Siamo a 30.000 Ci vorrebbero altri due viaggi Ma per oggi Direi che va bene così Parcheggio qui Il fiatino Che poi ci faccio La copertinazza Hashtag Copertinazza Buona Allora Parcheggiamo qui Spegni tutto Anche le luci Ci trasportiamo In farm Tastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast qui taglierà poi diventa un casino allora apriamo quale serrate queste sono quelle mod allora produzione cosa attiviamo i pubcatch i pubcatch immagazzinamento cambia input in distribuzione mettiamo l'acqua eccola qua che abbiamo il camioncinazzo andiamo a riempire la fabbrica di acqua così vediamo se anche funziona una fabbrica di pellet così almeno sono contento e non ho buttato via soldi per nulla perché qua è tutto strano qui c'è il tubo aperto vabbè c'ho i cosini aperti allora dietro front ok spero che richiedano poca acqua non lo so allora vai di acqua scarica tutto devo fare un altro pieno ed eccoci con un altro pieno di acqua adesso scarichiamo l'acqua che richiede appunto nella serra poi vediamo se ne richiede ancora spero di no perché sono stufo da pannelli avanti in re ma se in caso ho inserito anche la mod dell'acqua per l'appunto adesso vediamo un attimino ok abbiamo finito niente ragazzi allora vediamo se funziona tutto adesso andiamo a dormire una giornata ok abbiamo dormito una giornata intanto abbiamo un po di richieste elevate abbiamo un po di entrate che ci sono entrate grazie ai pannelli solari quant'altro più che pannelli solari al generatore qua l'olio però non me lo spawn perché forse c'è troppo ancora poco coso adesso andiamo a vedere dal camion se qui ci ha spawnato qualcosa ma ancora no vediamo perché produzione aperta eppure distribuzione cambia input vediamo immagazzinamento a deve stare in immagazzinamento per spawnare la roba non lo sapevo ok perfetto abbiamo la nostra fabbrica di piccaccio penso che siano come si chiamano zucche perfetto adesso andiamo a vedere le pecore come stanno messe poi direi che concludiamo perché purtroppo il tempo è tirano intanto c'è un tutu allora c'è un errore vabbè sistemerò anche questo allora ecco quale pecore e questo non cos'è questo è una pecora vabbè facciamo domande io non capisco dove spawnano le lana queste pecore però fuori ok fuori da qua buono interessante va bene ragazzi dai direi che oggi un paio di acquisti li abbiamo fatti qui diamo ancora un po d'acqua alle serre do l'acqua all'altro appunto la di spawn cambio anche input nella fabbrica visto che ci sono prima di concludere perché poi mi dimentico sì che ragazzi ci facciamo ricchissimi su questa mappa mentre sulla mappa italia adesso la registrerò in settimana ragazzi per la settimana nuova allora andiamo a scaricare qui tutto eccoci qua vai chi si scarica ok invio invio i premi perfetto abbiamo scaricato anche qui niente ragazzi vediamo qui la fabbrica poi concludiamo intanto vi lascio con la sigla spero che il gameplay sia stato di vostro gradimento se è così mi raccomando lasciate tantissimi like quindi era immagazzinamento qui e qui devo cambiare allora per vendita e si devo cambiare per vendita ok vediamo se me la spawnata per caso qui davanti si l'olio ce l'abbiamo niente ragazzi vi ringrazio per aver visto questo gameplay se ne volete altri simili a questo o comunque di farming spoliciate tantissimo e alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao